Un investimento per quanto riguarda il territorio, Nebbiuno e Belgirate? Sì, è un investimento per il gruppo Orpea di circa 15 milioni di euro, tra ristrutturazione della struttura, acquisto della struttura, arredamento interno e abbiamo anche l'altra struttura su Nebbiuno, che è più una casa di cuore psichiatrica. Ecco, quanti invece sono le persone che lavoreranno in questa struttura? Noi creiamo circa 50 posti di lavoro a tempo pieno, solo Belgirate. A Nebbiuno sono già una sessantina di persone che lavorano a Nebbiuno a tempo pieno. In questa residenza, perché parliamo di una residenza per anziani, il clima, l'aspetto, il panorama la identificano quasi come un albergo a molte stelle. Qui ci sarà posto per 80 persone anziane e soprattutto quello che mi piace sottolineare è che ci saranno tutte attività di tipo riabilitativo, di tipo animativo. C'è una psicologa che segue tutte e quante queste persone anziane e la chicca è che questa è l'unica struttura che ha una piscina per la riabilitazione dolce in acqua, cosa che non esiste in altre strutture di questo tipo. Ospiti che sono autosufficienti e non autosufficienti? Certamente sì, abbiamo ospiti, c'è l'ospitalità per persone non autosufficienti, totalmente non autosufficienti, ma anche per persone autosufficienti. Le camere sono strutturate sia per l'uno che per l'altro tipo di persone presenti. Nell'organico del personale avremo animatrice o educatrice e psicologa. In questo modo gli ospiti potranno usufruire di servizi come attività per la stimolazione cognitiva, la stimolazione manuale, quindi attività come cruciverba, lettura di biografie piuttosto che di quotidiani, laboratori manuali, anche solo lavoro a maglia piuttosto che la creazione di piccole opere sotto le festività come Natale e Pasqua. Con la psicologa ovviamente attività di stimolazione cognitiva e quindi stimolazione della memoria.